Tornano le notti magiche all'Ippodromo del Savio e domani sera si parte in grande stile. L'evento Clou Centrale dell'Atte di Cesena è riservato agli anziani in vetrina grazie ad un intricato handicap sulla lunga distanza. Una maratona dai notevoli spunti tecnici che vede i nuovi partecipanti divisi in tre nastri dall'omogenea consistenza tattica. Con Aldo Benal, probabile Battistrada alla giravolta, Lottar B ad inseguire dal secondo schieramento e gli estremi penalizzati, Real Med SM e Ombromanto OM, a far valere classi cristalline e condizione atletica di primo ordine. Il pronostico non può quindi prescindere dai magnifici 4 appena citati. Meno evidenti appaiono le chance del resto del gruppo, anche se il giornaliero senatrio vante eccellenti credenziali e parotrebbe sicuramente miglior di quanto non dica la carta recente, mentre Navi B apre la sua estate in riviera sfoggiando un notevole palmarès primaverile. Il prologo della serata è invece riservato ai cadetti, un sestetto di buoni prospetti che si sfederanno su due giri di pista e daranno vita ad una prova dalle notevoli aspettative in ottico cronometro con Tarantella ferma e raspanti in fuga dallo stacco e Tiroigual nei panni dell'inseguitrice interpretata da Roberto Vecchione al ritorno a Cesena. Da non troscurare poi il proverbiare coraggio di Tolito GSO, out-out di un lanciato Lorenzo Baldi. Di notevole interesse, vista la novità, si presenta la quarta corso. 8 anziani di lungo corso si sfederanno in un handicap sulla media distanza nella prima prova del challenge che prevede la partecipazione alle corse senza l'ausilio della frusta per un pronostico tutta a trazione posteriore affidato agli specialisti Mirtillo, Pietro Di Jeslo e Ninja Riz.